Oggi è il giorno dove voglio parlare in italiano. Questa volta ho scritto qualcosa da leggere, una poesia. Perché? Perché sono una scrittrice e mi piace la scrittura. L'idea è nata di una frase di una canzone. Spero che non ci siano troppi errori. Un desiderio materno. Mi manca l'aria e la verità. E ogni giorno da molti anni fa è diventato peggio. Questo è la realtà. Mi manca l'aria. Lo sapete già. Però nessuno fa di nulla per allutare con il problema. E vi assicuro per un pianeta. Non esiste un al di là. Mi manca l'aria. Ma siete seduti sul sofà. Guardando come se la tv vi mostri solo una trama. Però non è una fantasia. La morte del clima. Mi manca l'aria. Ma per questa terra di cui sono la mamma, da solo non posso fare di più per salvare campagne, mari e città. Aiutatemi ora o per un'eternità. La vita umana non esisterà. È tutto per oggi. E questo è il mio canale di scrittura inglese. Sandro Lanza. Ma sei ci sono così chiile.